Signori, quest'oggi giochiamo a Alubari, a Naisa Cup of Tea, ovviamente sono messo malissimo con la voce, con i raffreddori, quindi faccio veramente ciò che posso oggi. Naturalmente un gioco ambientato in India e riguarda la costruzione della ferrovia, quindi noi andremo a costruire la ferrovia a partire da Siliguri Town che è qua giù e seguiremo questo percorso fino ad aggiungere Dark Ealing. Nel frattempo costruiremo quindi i pezzi di ferrovia, le stazioni, andremo a rimuovere le macerie per costruire l'estate, l'estate poi per produrre il tè, il tè parte centrale di questo gioco che verrà utilizzato. Le foglie di tè verranno trasformate in chai, che sono questi cubi verdi, e il chai potrà essere utilizzato in vari modi fra cui bustare le azioni, quindi ha una parte rilevante del gioco. Il gioco si svolge in un numero indeterminato di turni e finisce nel momento in cui l'ultimo pezzo di tracciato viene piazzato praticamente in questo spazio e il gioco finisce al termine di quel round. Nel percorso vedete queste città, altri spazi in cui piazzare i vari tracciati, quelli blu indicano dei ponti, i ponti sono importanti perché danno accesso alla costruzione delle stazioni fino al ponte successivo. Qua sopra vedete gli spazi azione, dove i giocatori piazzeranno i loro lavoratori, alcuni di questi hanno delle carte sopra che sono praticamente degli overlay che dipendono dal numero dei giocatori. Qua abbiamo l'indicatore del chai, i giocatori registreranno lì la quantità di chai a disposizione. Qua abbiamo uno stockyard dove ci sono le risorse che sono il ferro, la roccia e per l'appunto il chai, mentre da questa parte abbiamo tutti i vari contratti. I contratti hanno una duplice funzione, possono essere utilizzati una tantum per applicare l'effetto con l'azione specifica, in questo caso D, e nel box blu sono punti di fine partita se noi soddisfiamo il criterio della carta. Inoltre le condizioni atmosferiche saranno importanti in questo gioco, sono variabili e vanno a cambiare lo status di questi indicatori, praticamente sulla quantità di macerie rimovibili, la quantità di tracciati piazzabili e la raccolta del tè che avverrà in base alla quantità di estate che avremo costruito. La prima fase del turno che si salta il primo round è sistemare i contratti, quindi se c'è un contratto nello spazio più in alto, questo viene scartato a faccia in giù, poi slitta tutto verso l'alto e rifiliamo gli spazi. Seconda fase, anche se si salta il primo turno, si controlla il tempo, quindi il disco che è piazzato qui verrà rimosso e slitta tutto verso il basso. Il disco che adesso si trova in questa posizione ci indica la condizione atmosferica corrente, che può essere il sole, oppure la pioggia, oppure la nebbia. A seconda di che cosa esce, andiamo a sistemare questi indicatori a seconda di questa tabella, quindi col sole, sale, salgono di due le pale, sale di uno i tracciati e così via. Quando c'è la nebbia, questi due indicatori nebbia vengono piazzati negli spazi azioni B e D a bloccare quegli spazi. Dopodiché si va a vedere la carta in cima del mazzo con tratti, in questo caso il sole, e si va a piazzare il sole, un disco sole, nello spazio più in alto. Dopodiché vengono pescati i cubi dal sacchetto. Quanti cubi si pescano dipende dal numero di giocatori. In due, sei cubi. Si pescano dal sacchetto e si mettono nei relativi spazi. All'interno di questo sacchetto ci sono dei cubi bianchi. I cubi bianchi rappresentano degli eventi che accadono immediatamente. Quando peschiamo uno o più cubi bianchi, li piazziamo in questa rondella partendo dallo spazio 1 e seguendo il senso orario. E quindi gli eventi vengono risolti immediatamente. Se pesco più cubetti bianchi, risolvo tutti gli eventi in ordine. La quarta fase è il piazzamento lavoratori, ovvero la prenotazione delle azioni. Si segue l'ordine orario dal primo giocatore che ha questo trenino e ci si piazza negli spazi lì in alto. Prima di iniziare questa fase, tutti i giocatori che hanno almeno un equipaggiamento, che sono queste carte qui, come indicato da qualsiasi carta equipaggiamento, il giocatore ha la possibilità di spendere un chai, ovvero inghietreggiare in questo tracciato, per ottenere il lavoratore addizionale che prendiamo dalla tea house. Questo lavoratore addizionale è temporaneo, ovvero vale, per il round corrente. Al fine del round poi devo restituirlo qui. Quindi i giocatori si vanno a piazzare nelle varie spaziazioni. A seconda del numero dei giocatori ci sono uno, due o tre spazi. Posso piazzarmi in qualsiasi spazio. In questo gioco è importante la pianificazione, quindi molto spesso conviene andare per ultimi. E un giocatore può anche avere due omini in un'unica carta, quindi fare l'azione più volte. Nella fase numero 5 si risolvono quindi le azioni da sinistra verso destra, seguendo uno, due, uno, due, uno e così via. Ora, prima di risolvere una carta, per esempio la carta A, come notate ci sono sette spaziazioni con A, B, C, D e F, G, tutti i giocatori, prima di risolvere questa carta, possono attivare le loro carte contratto relative a quell'azione. In questo caso spazio A, tutti i giocatori possono attivare uno o più contratti che hanno la lettera A. Questa attivazione la posso fare anche se non ho piazzato omini in quegli spazi azione. Quindi quando attivo uno di questi contratti, tappo la carta o la giro dall'altra parte a indicare che questo effetto utilizzato ed è un effetto una tantum per l'intera partita, tuttavia non scarto la carta e la tengo perché nel box blu abbiamo degli eventuali punti di fine partita se abbiamo soddisfatto i requisiti. Quindi risolviamo la carta A, prima di tutto si chiede qualcuno vuole attivare i contratti A, sì, no, eccetera, si risolvono le A, poi carta B, qualcuno vuole attivare i contratti B e così via fino alla G. Con lo spazio A andiamo a raccogliere risorse. Quindi vado a prelevare dallo stockyard, ovvero da qui, tre cubetti. Tuttavia solo uno di questi può essere un chai, quindi posso prendere un chai e altre due e così via. Il ferro e la pietra vanno nella mia riserva personale, tuttavia ogni volta che ottengo un chai il cubo che prendo non va mai nella riserva, i giocatori non hanno mai il cubo verde, piuttosto questo viene rimosso dal gioco e registro il mio chai in questo tracciato. Ogni volta che guadagno un chai, quindi rimuovo il cubo, salgo lì quando lo spendo indietreggio. Questo spazio ci fa scavare, quindi rimuovere i cubetti maceria. I cubetti che rimuoviamo dalle varie estate, rigorosamente da sinistra verso destra. Quanti cubi andiamo a rimuovere dipende da questo tracciato, quindi due, tre, quattro o cinque. Per esempio se devo rimuovere tre cubetti andrò a togliere queste tre macerie che metto nella mia riserva perché sono effettivamente delle risorse che posso spendere per varie cose. Se ho liberato l'ultimo spazio di uno spazio qui vado a mettere il mio marker. Il box giallo indica punti di fine partita. Attenzione, con questa azione è importante il tempismo perché ci sono degli spaziazioni. Dove vedete i tondi significa che ci sono cinque, sei, sette, otto, nove. Quindi se un giocatore rimuove quasi uno spazio ma l'altro rimuove l'ultimo di uno spazio allora sarà lui a mettere il marker. Quindi qua è questione di tempismo. Con questa spaziazione fino a tre volte posso fare queste azioni e posso fare la stessa azione più volte. Quindi con tre ferro ottengo una barra di ferro, due macerie diventano una pietra, una pietra due macerie. Con questa spaziazione vado a piazzare i tracciati. I tracciati devono andare rigorosamente in ordine partendo da questo spazio fiume o ponte. Quindi il primo va qui, dove vedete questo simbolino qua, secondo, terzo, quarto, quinto, bla 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 si segue l'ordine. Costruendo in uno spazio ponte ottengo una tantum unciai che registro nell'indicatore lì. E questi sono punti di fine partita dove vedete il box giallo. Quando costruisco in un ponte ho accesso alla costruzione delle stazioni di tutte le stazioni in avanti fino al prossimo ponte. Con questo spazio posso o prendere un equipaggiamento oppure costruire una stazione. Quando costruisco una stazione non è necessario aver costruito i tracciati perché praticamente i omini arrivano con i muli o gli asini. Quindi ci si arriva anche senza ferrovia. Tuttavia i spazi che ho a disposizione sono tutti quelli avanti fino al prossimo ponte. Quindi se qualcuno ha costruito un ponte qui abbiamo accesso a questa, a questa e a questa città. Tuttavia non posso andare qui fin quando non costruiamo in questo successivo ponte e così via e così via e così via. Quindi quando costruisco una stazione andrò a pagare quanto indicato che possono essere cubi, possono essere barre di ferro. Notare che la prima città è disponibile sin dall'inizio, quindi ci costa foglie di tè. Noi andiamo a spendere a mettere quel marker. Il box giallo indica di nuovo i punti di fine partita. Oppure ci possono essere altri bonus, ovvero barre di metallo. Oppure se vedete il simbolo dell'omino, otteniamo l'omino extra dalla T-House per il prossimo round. Quadagnare un equipaggiamento. Il costo è indicato in alto a sinistra. Possono essere una o due barre di metallo. Questa mi costa tre ciai. Tutti gli equipaggiamenti valgono nove punti. A fine partita ce n'è uno che vale sedici. Ogni equipaggiamento ci dà lo stesso identico potere, ovvero la possibilità all'inizio della fase di piazzamento di spendere un ciai per ottenere il lavoratore addizionale dalla T-House. Gli equipaggiamenti danno un beneficio permanente, a decisione di questo che è praticamente da solo 16 punti. Gli equipaggiamenti sono soggetti a un mantenimento, come vedremo, se triggerato da un evento. Con questo spazio se ne qui andiamo a prendere una carta contratto. Da questo display non si rifilla subito, si rifilla alla fine del round. Non c'è limite al numero di contratti che possiamo avere. Con questo altro spazio andiamo a prendere le foglie di tè. Quante foglie dipende da questo tracciato? Uno o due. Se l'indicatore si trova più a sinistra dove c'è un mezzo, non posso prendere alcuna foglia. Oppure, in alternativa, un qualsiasi numero di volte posso convertire foglie di tè in ciai. Quindi scarto le foglie di tè e registro il mio ciai in questo tracciato. Si continua così fin quando l'ultimo pezzo di tracciato è stato costruito. I punti di fine partita sono tutti gli spazi dove vedete i box gialli. Quindi i pezzi di tracciato costruiti, le stazioni dove ci sono i punti, gli spazi dell'estate. Abbiamo punti in base a dove siamo arrivati sul tracciato del ciai. Poi andiamo a contare i punti di tutte le tessere contratto che abbiamo, indipendentemente se sono state usate o meno. E queste carte riguardano la quantità di tracciati, la quantità di stazioni, la quantità di estate, la quantità di foglie di tè che abbiamo. E ognuno di questi elementi può essere piazzato, cioè deve essere piazzato fisicamente sopra questa carta. Il che significa che un elemento non può valere per due carte contemporaneamente. Quindi se qua ci richiede un pezzo di tracciato e questa carta ne richiede altre tre, io devo avere quattro tracciati per soddisfare entrambe le carte. Ok, iniziamo subito con un esempio di gioco. Saltiamo le fasi 1, 2 e 3 al primo round. Andiamo subito con la fase di piazzamento. Chiaramente i giocatori iniziano senza chai, quindi non possono richiamare il lavoratore addizionale il primo round. Iniziamo dal giocatore rosso. Il giocatore rosso direi che iniziamo subito con l'ottenimento di risorse. Il giocatore giallo farà la stessa cosa nel secondo spazio azione. Il secondo spazio azione ha il simbolo di una locomotiva. Quindi prende la locomotiva e diventa il primo giocatore che ha effetto immediatamente. In rosso iniziamo a fare una escavazione. Mentre con il giallo andrà a piazzare un tracciato. Quindi risolviamo le spaziazioni. Per la prima cosa il rosso inizia con il suo omino. Prende tre cubetti. Prendiamo due pietre. Solo uno di questi può essere un chai. Il chai lo rimuovo e lo segno qui. Mi prendo queste due pietre. Stessa cosa fa il giallo. Ma il giallo prende due ferro e un chai. E anche lui lo rimuove e segna lì. Poi abbiamo l'escavazione. Il valore corrente di escavazione è 3. Quindi iniziamo da sinistra verso destra. Andiamo a togliere questi tre cubetti. Che mi metto nella riserva. E andrò a piazzare uno dei miei marker. Qui il primo vale banalmente un punto. Il giallo, ultima azione, va a mettere un pezzo di tracciato. Il primo in assoluto deve essere questo. Mettersi su un ponte fa guadagnare immediatamente un chai. Quindi fine del round. Questa qua viene scartata. Slittiamo tutto e rifiliamo. Questo indicatore scende. Significa che adesso piove. Piove significa che diminuisce uno l'escavazione. Uno è tracciato però sale di uno il raccolto. La carta è in cima e la pioggia. Quindi sappiamo che fra due turni pioverà di nuovo. Poi andiamo a rifillare gli spazi. Quindi peschiamo 6 cubetti. Ah c'è già un cubetto bianco. Questi arancioni vanno qui. Le pietre vanno qui. Abbiamo triggerato il primo evento. Il primo evento si piazza qui. Significa che il gioco costruisce le prime due estate. Andando a rimuovere i cubetti. Quindi è il gioco che costruisce per noi. E velocizza la situazione. Andiamo a mettere questi marker bianchi. Che rappresentano il gioco. In questi due spazi. Il giallo andrà a raccolta risorse. Il rosso andiamo a costruire una stazione. Il giallo vuole prendersi una carta contratto. E con il rosso andiamo a piazzare il tracciato successivo. Ora, cosa che non abbiamo visto prima. Gli spazi azioni possono essere bustati. Andando a spendere il chai. Per esempio, quando si fa questa azione. Solitamente si prendono 3 cubetti. Se io spendo un chai. Posso prendere 2 cubetti addizionali. Di cui 1 può essere un chai. O se facciamo questa azione. Andiamo a rimuovere 3 cubetti in più. Qua solitamente possiamo farla 3 volte. Se spendiamo un chai. Possiamo farlo un qualsiasi numero di volte. In più, ottenere una barra di ferro. Costa 2 arancioni, non 3. Con questa azione andiamo a mettere 2 ferrovie. 2 tracciati in più. E con questa andiamo a fare l'azione una volta in più. Quindi costruire 2 stazioni. O prendere 2 equipaggiamenti. O 1 e 1. Oppure, con un chai qui, possiamo scartare tutte le carte dal display dei contratti. Rifillare e prendere quella che vogliamo. In questo caso, il giallo decide di prendere 3 cubetti. Quindi 2 arancioni, un chai. Lo aggiungiamo qui. Dopodiché, spende un chai per bustare l'azione. Quindi prendere altri 2 cubetti. E andiamo a prendere un'altra arancione. E l'ultimo chai disponibile adesso. Il rosso. Il rosso va a costruire un pezzo di tracciato. Andando in ordine. Quindi andiamo a Sukna. Con il rosso voglio andare a costruire una stazione. E voglio costruire una stazione qui. Andando a pagare 2 pietre come richiesto. Le risorse spese ritornano nel sacchetto. E vado a mettere un mio indicatore qui. Questo spazio non mi dà punti a fine partita. Ma mi fa guadagnare il lavoratore addizionale preso dalla T-House per il round successivo. Il giallo, per ultimo, va a prendere un contratto. Contratto che praticamente ci fa fare subito una conversione di ferro in barre di ferro 2 volte. Quindi fine del round slitta tutto di qui. Andiamo a girare la carta. Il tempo. Questo disco si rimuove. Scende di 1. Adesso c'è il sole. Allora col sole sale di 2 l'escavazione. E sale di 1 il tracciato. In cima c'è di nuovo pioggia. Quindi ci sarà pioggia per 2 turni di fila. Poi andiamo a pescare 6 nuovi cubetti. Un altro cubo bianco. 1, 2. Il cubo bianco triggera il prossimo evento. Fa salire di 2 il tracciato del raccolto. Ora il raccolto è molto importante perché ci farà raccogliere le foglie di tè. In base a quante estate abbiamo costruito moltiplicate per questo valore. Quindi per 1 o per 2. Se l'indicatore si trova su un mezzo invece viene diviso per 2 col valore. Arrotondato per difetto. Il raccolto viene triggerato in vari modi. Quando l'indicatore raggiunge questo spazio. Oppure questo spazio dove vedete la foglia. Dopodiché l'indicatore ritornerà nello spazio iniziale col verde scuro. Inoltre il raccolto può essere attivato da un evento specifico che si trova qui. Oppure da alcune carte contratto. Quindi andiamo a contare il numero di estate costruite. E moltiplichiamo per 1 o per 2 o dividiamo per 2. Allora giallo. Siccome l'indicatore qua è sul 2. Andiamo su questo spazio che è unico. Che poi mi consentirà di prendere ben due foglie di tè. Rosso. Il valore di escavazione è 4 attualmente. Quindi andiamo a scavare. Il giallo a questo punto vorrebbe attivare questa carta. Per fare un po' di barre d'acciaio. Il rosso ha il lavoratore addizionale. Quindi direi che scaviamo due volte. Perché cerchiamo di liberare velocemente questo spazio. Dopodiché vorrei costruire una stazione con il rosso. Sì. Il rosso va a scavare. L'indicatore è sul 4. Quindi rimuoviamo 4 cubi. E andiamo a scavare un'altra volta. Tuttavia utilizzo un chai per pompare solitamente 4. Aggiungo 3. E quindi rimuovo 7 cubetti. Quindi 5, 6, 7. E ho liberato questo spazio. Che vale ben 7 punti alla fine del gioco. Prima di fare quell'azione. Attiva il suo contratto C. Che corrisponde allo spazio di azione C. Quindi per due volte. Trasforma due arancioni. In due barre di ferro. Barre di ferro sono importanti. Perché servono per comprare gli equipaggiamenti. E servono anche per pagare il loro mantenimento. Con il rosso voglio costruire una stazione. E direi che a sto punto voglio costruire qui. Che vale 5 punti. Andando a spendere ben 8 macerie. Ma ne ho in abbondanza. Quindi piazziamo un marker qui. E saranno 5 punti alla fine. Ultimo spazio col giallo. Andiamo a prendere foglie di tè. L'indicatore è sul 2. Quindi mi prendo due foglie. Fine del round. Scartiamo questa carta. Slitta tutto. Andiamo a rimuovere il sole. Tutto scende. Adesso piove. Piove quindi. Scavazione meno 1. Tracciati meno 1. Sale di 1. Il raccolto. La carta in cima è il sole. Quindi lo piazziamo qui. Quindi si triggera il prossimo evento. Che ci dice che il gioco costruisce il prossimo tracciato. Sempre andando in ordine. Il prossimo è qui. Ora fase di pianificazione. Il giallo prima di questa fase spende un chai. Per ottenere il suo lavoratore addizionale. Il rosso in realtà non ce l'ha più. E poi questa roba è prettamente imprevedibile. Ma noi sappiamo gli eventi che incomberanno. Nel momento in cui viene piazzato questo cubetto qui. Tutti questi 3 cubetti ritorneranno nel sacchetto. Quindi andremo a pescare altre 3 volte. Una volta che viene messo qui un cubetto. Nel 4, 5, 6 ritornano nel sacchetto. Insomma si recicla questa roba. E continuano ad uscire cubetti bianchi. Che continuano ad attivare questi cubetti. Io ho già fatto un tentativo. E molto spesso non escono. O escono. Ma chiaramente lì è casuale. Adesso sono veramente cimito. E quindi ci vediamo per forza per un altro gioco. Saluti. E... Grazie. Grazie.